Ci sarebbe un impeto di gelosia alla base del gesto del 22enne ragusano Marco Chillemi, che ieri avrebbe investito un 31enne che si stava intrattenendo con la sua ex fidanzata. I fatti si sono svolti in via Respighi a Ragusa intorno alle 14. Il giovane aveva deciso di passare sotto casa della sua ex ragazza di 17 anni e dopo averla vista in compagnia di un altro avrebbe cominciato ad insultarla. Poi però la rabbia avrebbe preso il sopravvento e Chillemi, dopo aver fatto il giro dell'isolato, avrebbe ripercorso la stessa strada in controsenso, accelerando ed investendo volontariamente il rivale che si trovava a bordo della sua moto, trascinandolo per diversi metri e danneggiando gravemente diverse auto in sosta di ignari cittadini accorsi sul posto. Chillemi sarebbe poi sceso dall'auto dirigendosi verso il ragazzo armato di una chiave in ferro, colpendolo ripetutamente alla testa e in diverse parti del corpo. Per fortuna la vittima indossava il casco, per tante colpi al capo sono stati attutiti. Chillemi sarebbe poi fuggito, portando via con sé la coppia di amici che si trovava in auto con lui, lasciando a terra la vittima in una pozza di sangue senza soccorrerla. Il lacrima è la ragazza 17enne riferita ai poliziotti accorsi sul posto quant'era accaduto. Il 31enne, immediatamente soccorso dal 118, è stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale, dove è stato sottoposto a un delicato intervento alla gamba. Dopo aver ascoltato i testimoni, la polizia di Stato ha dato il via alle ricerche per individuare Chillemi. Che alla fine ha deciso di costituirsi, presentandosi agli uffici della squadra mobile, fornendo però una versione completamente diversa da quella data dai testimoni. Rintracciati i suoi due amici, presenti ai fatti, entrambi però avrebbero confermato la responsabilità del 22enne. L'arrestato ha poi indicato dove aveva nascosto l'auto, che riportava segni evidenti dell'investimento. La perquisizione veicolare ha anche permesso di rinvenire la chiave inglese utilizzata per colpire il rivale Namore, nascosta sotto il sedile. Chillemi è stato quindi arrestato per il reato di tentato omicidio.